ciao bimbi sapete chi sono io bravissimi un bel cerchio tutto tondo un cerchio tutto colorato non ha angolo né lato ci sono tante cose che hanno la forma rotonda tappi monete bottoni e guardate un po un piatto guardate come bello rotondo oggi vorrei proporvi un'attività dove possiamo usare tanti piccolissimi cerchi colorati l'albero di candischi per fare questa tipità serve un cartoncino colorato che potete ricavare dalle scatole delle scarpe come me che io ho colorato precedentemente una colla un paio di forbici una sagoma a forma di albero e tanti piccoli cerchi colorati grandi e piccoli prendiamo la sagoma e la incolliamo sul cartoncino distribuiamo bene la colla su tutti i rami a questo punto posizionate l'albero sul foglio e pressate bene su ogni ramo poi prendiamo i cerchiolini prima i più grandi poi i più piccoli e andiamo a posizionare sulle punte di ogni ramo abbiamo terminato il lavoro di oggi un saluto al prossimo video ciao ciao